È iniziato l'anno scolastico 2011-2012, finalmente che dire, l'educazione ambientale entra in classe? Esattamente, anche quest'anno il WWF ha due nuove chicche per la scuola, riguardano i soliti Panda Kit, il Panda Explorer per i bambini più piccoli, quindi scuola dell'infanzia, primi due anni degli elementari, e poi il Panda Club che sono per i tre anni della scuola primaria e la scuola media. Quest'anno poi c'è una novità sugli argomenti, il Panda Club riguarda un argomento molto importante, che è quello della nutrizione e alimentazione, in particolare collegato alla sostenibilità e all'ambiente. Al Panda Club è collegato anche un concorso, un concorso per le classi, sull'invenzione di una ricetta quanto più sostenibile possibile. Mentre per il Kit Explorer abbiamo l'argomento di quest'anno, che è quello delle foreste, per cui si chiama SOS Foreste, e cerca tramite sempre giochi, laboratori e attività, di educare verso il rispetto della foresta i ragazzi più piccoli. L'ambiente è un interesse, tra virgolette, diffuso, ma partendo dai più piccini può diventare un interesse personale, un diritto di tutti. Esattamente, per questo il WWF con i suoi kit cerca proprio di entrare nell'ambito dell'educazione dei più piccoli e le insegnanti possono far richiesta di questi kit e partecipare per cui a questo percorso del WWF è attraverso l'indirizzo email abruzzo-vvf.it Non solo le insegnanti possono far richiesta, ma anche i genitori, se appassionati verso questi argomenti, hanno interessi affinché i loro figli possano in qualche modo educarsi verso queste tematiche, fare dono o comunque richiesta di questi kit, sempre allo stesso indirizzo, che ripeto è abruzzo-vvf.it